Una stagione estiva che volge al termine per le città costiere e che porta a riflettere sui punti da rafforzare per incrementare il turismo e distagionalizzare le città. Su questo principio si fondano le parole dell'assessore di Fano Santorelli. Oggi siamo in una struttura che ha riqualificato, che sicuramente ha portato ricchezza e valore al territorio ed è su questa lunghezza d'onda che la nostra attività dovrà concentrarsi nei prossimi mesi, ovvero per pensare a un piano particolarizzato alle strutture ricettive che possa infrastrutturalmente dare profondità all'azione turistica di tutto il sistema. Abbiamo sicuramente meno strutture ricettive della città di Senigallia, questo è un segnale negativo che va colmato, ma abbiamo sicuramente però tante aree ancora con la possibilità di sviluppo sia per quanto riguarda le strutture che le iniziative e quindi gli eventi da dislocarsi durante tutta la stagione con anche un'attenzione a quello che è il programma degli eventi che non dovrà sovrapporsi e dovrà sicuramente essere organizzato meglio. Noi dobbiamo innanzitutto fermare la deriva per cui se un hotel sta chiuso per cinque anni poi può trasformarsi in appartamenti. Questo ovviamente sarebbe la morte del turismo, quindi è una norma tecnica di attuazione anche nel piano regolatore che è da eliminare e il piano strutture ricettive ovviamente dovrà contemplare la possibilità di riqualificare e di aumentare i servizi all'interno della struttura ricettiva anche di ampliare la capacità dei posti letto della stessa struttura perché sappiamo che gli alberghi ovviamente sono legati a una reddittività delle camere e quindi dobbiamo cercare di dare la possibilità di aumentare questa reddittività in modo da attirare gli investimenti sulla città e di dare la possibilità a chi è proprietario o gestore di albergo di mettere in mano la propria struttura. Il Palasport per gli albergatori può sicuramente rappresentare un tassello fondamentale per la destogenalizzazione della città di Fano ed attirare non solo turisti ma anche imprenditori nel territorio. Noi l'abbiamo sempre messo in chiave questa priorità è da parecchie amministrazioni che chiediamo un palazzetto importante minimo minimo di 3.000 posti perché gli eventi importanti come abbiamo constatato lo sport durante l'inverno ci porta veramente ossigeno alle nostre strutture. Un investitore che viene nella nostra città ha bisogno di portare avanti un discorso più ampio dei due mesi delle vacanze che fanno gli italiani o gli stranieri a Fano. Minimo minimo bisognerebbe portare avanti 4-5 mesi abbondanti di turismo a livello sia sportivo che anche a livello di balneazione. Visto che abbiamo un bellissimo introterra noi cerchiamo di vendere molto con gli eventi tipo Fiere del Tartufo abbiamo attirato tanta tanta gente e puntiamo anche questo discorso sul turismo sportivo e il turismo anche congressuale anche radunistico perché abbiamo questi giorni un bellissimo raduno del Vespa Club a Fano che porterà tanta tanta gente a conoscere le nostre zone ma non solo anche le nostre degustazioni di prodotti tipici.